buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro bertola e oggi vi presento una video recensione piuttosto speciale abbiamo di fronte a noi infatti uno smartphone non comunissimo uno smartphone che non viene commercializzato direttamente in italia ma tramite rivenditori esterni online come ludos che ci ha fornito il device possiamo provare questo nubia z 5s uno smartphone veramente particolare molto molto caratteristico sia per il design sia anche per l'interfaccia dato che presenta delle delle linee e degli aspetti abbastanza singolari andiamo a scoprire la confezione abbiamo già tolto il nubia dalla confezione troverete molte scritte in cinese dato che il produttore appunto è cinese però essendo il prodotto non di importazione tutti i manuali e anche gran parte del software vengono a per l'appunto forniti solo in madrelingua allora cosa troviamo nella confezione confezione che è dotata di cavo usb micro usb bianco con caricabatterie anch'esso bianco ci ricorda da vicino la confezione che abbiamo visto da poco del one plus anche se è piuttosto più piccola e anche qua tra l'altro non troviamo gli auricolari scelta che forse per uno smartphone comunque che è un prezzo abbastanza importante per essere uno smartphone cinese può far discutere in un certo senso andiamo ora a scoprire lo smartphone vero e proprio eccolo qua il molto bello è molto bello questo z5s a me piace particolarmente il design soprattutto la parte frontale e frontale molto morbido con linee arrotondate sugli angoli e come potete vedere una cover posteriore di plastica ben fatta molto ben costruita dimensioni anche non troppo generose 137.7 x 70 x 7,6 mm di spessore il tutto in solamente 126 grammi di peso circa veramente pochi considerando comunque la diagonale del display da 5 pollici pulsanti con corsa molto buona posizionamento standard bilanciare del volume a sinistra tasto di blocco sblocco a destra e tasto della fotocamera dedicato a doppia corsa per l'autofocus dietro invece troviamo questo la fotocamera fotocamera che ha il sensore che leggermente sporge come potete vedere con flash led e doppio altoparlante di sistema stereo posti entrambi sulla parte posteriore in basso forse sarebbe stato meglio magari posizionare l'autoparlante in alto e uno in basso almeno per dare un po senso di posizionamento dell'audio caratteristica estetica molto bella e i tre tasti sotto il tasso di sistema soft touch con questo cerchio caratteristico di nubia veramente bello e questi due tastini di sistema che si illuminano leggermente con questa colorazione rossa allora andiamo a scoprire il device device che è compatibile naturalmente con le nostre reti android android che troviamo in maniera abbastanza standard non c'è il drawer molti produttori cinesi eliminano il drawer dalle loro interfacce scelta opinabile io sinceramente preferisco il drawer rispetto alla mancanza di assoluto di questo qualche limitazione smartphone di importazione importazione cinese come potete vedere interfaccia completamente in inglese non troviamo altre lingue di fuori dell'inglese del cinese come sistema cosa che potrebbe limitare in alcuni in alcuni aspetti anche se la tastiera android di sistema supporta l'italiano come potete vedere qua in basso quindi a livello di riconoscimento del testo nessun problema sono solo pochissimi parti dell'interfaccia non essere tradotte proprio bisogna andare a pescare nella nel profondo display come detto da 5 pollici molto bello display ips full hd a un ottimo angolo di visione come potete vedere ed è molto luminoso come potete visionare nella tendina tendina molto pulita questo è il la luminosità al massimo molto molto luminoso ve lo metto ve lo abbasso leggermente altrimenti ci rischiate di non vedere come potete vedere abbiamo inoltre alcune scorciatoie che ci permette una di cancellare tutti i processi background attivare wifi bluetooth i dati gps la sincronizzazione la suoneria la rotazione di catturare uno screenshot e tanto altro abbiamo anche l'utilizzo una mano che ci permette vi faccio vedere subito scrivendo un messaggio l'utilizzo una mano praticamente ci permette di avere dei pulsanti e dei tipi di interfaccia studiati ad hoc per questo utilizzo ora dobbiamo andarlo a impostare meglio scusate qua abbiamo la scorciatoie per le impostazioni ok ho attivato intanto che c'eravamo anche le gesti con le scorciatoie motion in modo da gestire alcuni aspetti anche con l'interfaccia motion nel mentre che ci siamo vi faccio vedere anche la lock screen lock screen prima che di soprassedere questo punto è un altro punto di forza visto che abbiamo la scorciatoia alla fotocamera abbastanza tipica questa di android delle ultime versioni se andiamo a sinistra abbiamo invece altri altre schermate personalizzabili invece lo sblocco a questa animazione molto bella che basta tener premuto il display non c'è bisogno di spostare il dito ma basta applicare una pressione sul display interfaccia interfaccia che supporta anche i temi i temi come potete vedere per esempio qua abbiamo parte dell'interfaccia e dell'applicazione in cinese abbiamo questo tema adesso impostato possiamo impostarne altri già presenti in locale andiamo ad applicarlo come potete vedere non cambia soltanto lo sfondo ma cambia proprio tutta una serie di icone io preferivo quello di prima sinceramente tra i tre preinstallati forse più bello ma ne troviamo veramente tantissimi anche questo sembra molto bello possiamo scaricarlo in pochi secondi è gratuito ci ricorda un po' l'utilizzo della scena p6 da questo punto di vista con i temi e col tipo di interfaccia in stile anche miui quindi ci ritroviamo abbastanza applichiamo e andiamo a vedere questo nuovo tema un po' più minimale come potete vedere allora interfaccia le home possono essere gestite anche col pinch in in modo da visualizzare tutte le home page e aggiungerle e selezionare quale è l'home page che vogliamo principale adesso chiediamo la tendina android purtroppo su questo nubia purtroppo non è ancora arrivato a una versione recentissima siamo ancora fermi a 4.2.2 speriamo veramente che arrivi in poco tempo o qualche versione aggiornata visto che l'hardware di tutto rispetto abbiamo infatti uno snapdragon quad core da 2.2 gigahertz mi sembra o 2.3 quindi veramente potente 2 gigabyte di ram quindi le caratteristiche tecniche ci sono tutte in ballo 32 gigabyte di rom quindi niente da invidiare ad altri top di gamma andiamo adesso a è arrivato è arrivato un aggiornamento tra l'altro mentre eravamo in diretta intanto che finisce la diretta lo facciamo scaricare dialer dialer molto normale come potete vedere abbiamo la ricerca dei contatti qua la rubrica molto classica non cambia molto a livello di organizzazione dei menu su questo nubia anche qua i gruppi sono gestiti nel medesimo modo tastiera tastiera che è praticamente quella di android standard cosa che non è assolutamente un punto sfavore anzi si scrive molto velocemente come potete vedere non abbiamo nessun problema di digitazione è veramente questo tasto centrale soft touch rosso che si illumina la nostra versione è veramente bello multitasking questo cambia leggermente ci ricorda un po' quello della sense abbiamo tutte le schermate poste di fianco possiamo chiuderle una a una con uno swipe verso l'altro oppure cancellarle visto che ho aperto la galleria volevo farvi vedere la qualità di questo display veramente altissima display IPS da 5 pollici full HD vi ricordo molto molto buono quasi paragonabile ai migliori LG ora vediamo se riesco a farvelo girare ok dettaglio veramente da tv di alta gamma se non superiore 441 ppi la densità di pixel guardate anche l'interfaccia con questo alone rosso veramente ben fatto che si sposa benissimo audio non troppo potente ma molto buono a livello di profondità e di di ampiezza sia nei toni alti che nei toni bassi quindi display veramente eccezionale possiamo anche scatere una foto durante il la riproduzione possiamo anche vedere il video in formato pip come avete visto per esempio lo rimettiamo guardiamo l'interfaccia nessuna nessun problema riprodurre il video chiudiamo allora chiudiamo del tutto applicazioni non troviamo il play store in questo device non troviamo il play store che si può comunque installare al di fuori noi abbiamo voluto proprio installarlo in maniera che fosse più puro possibile esattamente come vi arriva a casa così è lo smartphone abbiamo questo piccolo telecomando che l'abbiamo provato ma non funziona proprio benissimo manca un po' di sensibilità abbiamo poi il time manager che non è altro che l'orologio con le varie sveglie qua niente di particolare da segnalare un notepad semplicissimo si aggiungono le note purtroppo non c'è una sincronizzazione in cloud cosa che un po' manca forse lato cloud questo dispositivo volevo farvi provare intanto il browser browser proprietario veloce ma forse un po' lento nel caricare completamente la pagina allora carichiamo da capo nexus lab adesso siamo tramite wifi wifi 10 gigabyte visto che me l'avete chiesto di solito siamo collegati sempre a un wifi 10 gigabyte nelle nostre prove come potete vedere scroll molto veloce anche il pinch to zoom è rapido e reattivo doppio tap il testo viene incolonnato perfettamente quindi da questo punto di vista niente da niente da criticare a questo device se invece andiamo ad aprire una pagina è un po' lento il caricamento a volte non sempre come per adesso è stato velocissimo dell'ultima parte della pagina non sempre comunque si comporta più che bene abbiamo una velocità assolutamente più che sufficiente anzi quasi ottima altre caratteristiche come il fatto di non avere il play store comunque limita un po' i contenuti troviamo comunque l'hub di nubia dove possiamo trovare applicazioni di terze parti lui ci indica anche altre store di terze parti dove appunto scaricare altre applicazioni quindi lui non consiglia in nessun modo di scaricare il play store ma si può fare tranquillamente backup possiamo creare backup backup piuttosto piuttosto comodi anche se non vengono anche questi salvati in cloud ma solamente nella memoria locale o del dispositivo oppure o salvati su un'altra periferica possiamo gestire i widget attraverso questa schermata fatto di non avere una gestione dei widget migliore forse limita un po' il loro utilizzo andiamo su un'altra schermata qua c'è più spazio e questo è il widget proprietario della musica andiamo a eliminarlo per eliminarlo possiamo semplicemente cliccare sulla X come potete vedere piuttosto lento lo scaricamento dai server cinesi ci potrebbe impiegare molti minuti adesso naturalmente se l'aggiornamento implicherà delle migliori evidenti ma soprattutto porterà Android a una versione successiva faremo conto di indicarvelo nella recensione scritta quindi mi raccomando leggete anche quella giusto per dover di cronaca PowerSaver allora la batteria non è delle più grandi siamo più o meno sui 2300 milioni per ora difficilmente siamo arrivati a sera con un uso molto molto intenso con il PowerSaver inserito siamo arrivati a sera molto più facilmente ma ha limitato di molto la luminosità del display e altri aspetti altri aspetti come l'utilizzo dei dati quello che incide maggiormente troviamo anche i profili i profili classici in stile Cyanogen abbiamo il Pocket che è quello che è attivo adesso il Meeting lo Sleep il PowerSafe è una mano quello che vi dicevo prima abbiamo poi inoltre un File Manager che ci permette di navigare sia attraverso l'intero contenuto del telefono sia attraverso determinati tipi di file come per esempio le immagini i video i documenti gli zip eccetera peraltro non è che troviamo tantissimo calendar calendar non è altro che sembra molto da vicino il calendare di Google non lo è ma può utilizzare benissimo il suo Google Account per per sincronizzare i vari dati abbiamo inoltre flash che può essere utilizzato come fotocamera come scusate come torcia abbiamo la radio FM la calcolatrice il registratore audio e l'infrarosso altre caratteristiche interessanti sono per l'appunto la sua maneggevolezza allora quello che mi ha colpito in particolare di questo smartphone è la maneggevolezza e la leggerezza veramente comodo da portare non sembrerà di avere in mano un 5 pollici veramente leggero plastiche perché alla fine qua si tratta di plastiche l'ho sentito anche dal suono molto buone con rifiniture importanti fotocamera fotocamera che è l'ultimo aspetto che volevo mostrarvi richiamabile tramite l'apposito tasto piuttosto buona fotocamera da 13 megapixel fa foto più che belle manca forse un po' di nitidezza in alcune occasioni tastino estremamente comodo foto fatta in pochi secondi come potete vedere manca un pochino di nitidezza ma la foto è luminosa anche in condizioni di luce non altissima possiamo anche editarla direttamente dal programma di Nubia come potete vedere tantissimi effetti o possiamo anche creare dei veri e propri poster combinando come potete vedere le foto appena fatte possiamo inserire elementi spostarli è molto carina purtroppo questo tipo di interfaccia è quasi solo in cinese quindi è un po' difficile da comprendere però una novità molto esclusiva questa della creazione di poster abbiamo l'HDR abbiamo anche alcune modalità sia la manuale con questa ghiera utilissima che ci permette di capire se il soggetto che stiamo andando inquadrare è posizionato in posizione orizzontale cioè il telefono rispetto al soggetto è orizzontale poi abbiamo la fotocamera fan con tutta una serie di filtri bianco e nero ho tanti altri filtri questo è lo sfocato e la bacchetta magica che ci permette anche di selezionare altri tipi di funzionalità come il multiscatto il panorama la traiettoria che praticamente ci permette di di visionare in una foto il soggetto in movimento composto da diverse immagini cancellare un elemento della foto e tanto altro che dire quindi arrivando al dunque questo Nubia Z5S è un ottimo smartphone veramente ottimo Android probabilmente verrà aggiornato brevissimo se non proprio in questo momento quando finirà purtroppo la connessione server come potete vedere è molto lenta però ci ha stupito in positivo soprattutto la qualità costruttiva e la leggerezza dell'interfaccia interfaccia che non sembra neanche che si allontana molto da quelle sudcoreane e si vede invece come quelle cinesi magari siano un po' troppo semplici ma con pochi elementi soprattutto con questo tipo di tema riesce veramente ad essere quasi innovativo nella sua leggerezza manca il drawer mancanza che ci si abitua in fretta manca il playstore e le app di google mancanza invece più rilevante che può essere comunque arginata installandole tra le unité a pick up esterni quindi in un modo o nell'altro si può fare esistono anche gli store di terze parti o lo store nubia che hanno già tantissime applicazioni presenti potete vedere già qua un casino di app già preinstallate di terze parti uno smartphone particolare se volete qualcosa diverso qualcosa che quasi nessuno avrà in Italia questo è un ottimo prodotto un prodotto veramente ottimo un prezzo abbastanza competitivo un saluto da Alessandro per Nexus Love di Piazza di Piazza di Piazza di Piazza di Piazza Grazie a tutti